Benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay di Hexen, che vi ricordo ragazzi, per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate, perché se state vedendo questo video siete in questa live ai canali social, link che trovate nella descrizione, se mi seguite, se vi va di seguirmi e fare quattro chiacchiere insieme, mi trovate a quei link. Dicevo, se siete qui sapete che stiamo giocando l'espansione del primo Hexen, che è di una difficoltà, ma più che essere difficile è di una, come dire, di una percezione ambientale allucinante, perché siamo ancora al primo livello, mi auguro tra l'altro che sia anche l'unico livello arrivato a questo punto, perché sta durando un'infinità di tempo e io non so più come raccapezzarmi, non lo so, vediamo come andrà, perché il primo Hexen, con tutte le difficoltà del caso, sono riuscito a completarlo, quindi ringraziando, non so, la mia pazienza e tutto il resto, sono riuscito a completarlo, ma questo qua si sta rivelando veramente, veramente ostico. Tra l'altro, come ho già detto nella prima parte, devo ringraziare Fullval, che mi ha aiutato a risolvere il bug della musica ambientale dei livelli, di settarlo un po' decentemente anche a livello video, perché aveva qualche problemuccio questo qui, eh, e devo anche appurare il fatto, quando lui mi ha detto, oh, io questo qua lo odio più del primo Hexen, perché è decisamente più difficile, mi vuole dirlo, ma mi sa che ci aveva perfettamente ragione. Comunque, io non mi sono preparato la cartella per avviare il tutto, ma lo faccio adesso, tanto è un attimino, eh. Come on, deck, send, dove? Dov'è? Perché non c'è qui, scusate? Ah, questo perché è quello lì, ok, ok. Eccolo qui. Allora, vediamo. Seda Tumbo. Ok, dai, si vede tutto. Posso partire. Allora, Game Files, load game. Qual eravamo? Qual eravamo l'ultimo? Questo, 20, 39, 53, ok. Eh, eravamo a mettere, eravamo arrivati a mettere la terza, la terza, il terzo rubino. Intanto, cadaveri dappertutto lasciate. Logo, eravamo arrivati a mettere poi. Come va! Letta! Tchè! Letta! 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 C'è stato un mondo qui intanto io c'ho tutte le chiavi però non so che straminchia fare ciao genny buonasera disperato stavi seguendo ma non ho capito tu eri disperato che seguivi nolan perchè disperato che non sapevi chi seguire buonasera a te comunque signor genny ok qua ho premuto quindi ci sta sai che devo premere altre di ste cose a sto punto perchè c'è c'è qualcun'altra pensavo ce l'avessi con me nel dire vivi disperato perchè si sono anzi chiedo scusa per non aver streamato sabato ma emotivamente non sto benissimo quindi chiedo scusa se anche a livello di live non riesco a mantenere un livello più interessante dei fatti per il resto per il resto spero di aggradarvi con i giochi che vi faccio vedere soprattutto nel dopocena faremo qualcosa di moderno insieme a nikar visto che facciamo sempre retro gaming quindi fare qualcosa di moderno spero che tu possa gradire caro genny ah io continuo a sentire mostri la map l'ha esplorata tutta abbastanza moderna si è del 2016 è di due anni quello ma mi dovete credere ragazzi io non so più che fa non so più cosa fare allora aspetta prima di sumpare qui visto che di qua non avevo preso la la cosa che era in alto direi di andare lì che era se non sbaglio questa porta qui si era qui perché non avevo preso la roba lì quindi può essere che qui non ci sono ancora entrato eh invece si ci sono entrate come qua il problema è che non so non bisogna non trovare non 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 Sì. Ah, ci sarà anche palp, eh, stasera, raga, quindi... Oltre il nicarghino c'è anche il pulpino! Quello che devo fare l'ho fatto qua. Che cavolo devo fare? Ecco, questa è una zona che non stavo per dire. Non ho esplorato bene prima, perché me ne sono ricordato adesso, quindi allora... Non ho esplorato proprio mentre il suo stozzo mi sparava. Non ho esplorato... ... 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 di buttarmi ci un capo finito. Questo ghiaccio ti fa camminare come un deficiente, però qui se non sbaglio sì, c'era una levetta. A questo punto gli tiro le anime, almeno l'anima degli immortacci loro. Questo si crepa? Penso proprio sì. No, 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 no. Sempre quello lì? Sempre Hollow Knight, Jenny? L'altro Hollow Knight sto cercando di vincere su Steam Gift. Allora, abbiamo preso una mascherina. Quindi, adesso facciamo così. Ok, adesso lo rubiamo. Ma però io devo ritornare di lì perché... Perché? Se non ritorna più... Perché c'è quella parte di mappa che... Non ho esplorato bene. Allora facciamo così. Prima di venire qui... No! Stai uscendo bello pazzo. Eh, ma è così, eh. È così. Hollow Knight è così. Allora... Di qua... Insomma, qua c'è... No! C'ha la miseria! Anche io sto scendo pazzo con sto gioco. Jenny! Jenny! Ok, ne ho presi altri due. Direi perfetto proprio, eh. Che cavolo mi manca? Oh no. Ok, non c'è tutto. he briefing partes però! No. Ricordati no Breto! Wow! He Mi sa che è qui, perché ci siamo andati? Un'ultima parte! Un'ultima parte, e dove cavolo può stare? Un'ultima parte! Ehi, 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 ehi. Poi tra l'altro quella è solo una delle tante, quindi miseriaccia. Poi l'ho bisse tutte le parti. Ho, 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 ho! Oh, oh, oh... non credo sia di là non 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 allora andai ragazzi qua non siamo come ci salviamo si crepa a proposito di uscire pazzi lo vedi? lo vedi? non mi ricordo se da qui ho preso la... la perla poi eh preso poi da qui il diamantino? non mi ricordo una cosa che non mi ricordo 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 no non mi ricordo non mi ricordo ma non mi ricordo no non non Oh Mi manca solo un coso di questo, ma dov'è? Non lo troverò mai Ah, qua si può chiamare l'ascensore Io qua volevo andare Sì Penso che sia per forza qui perché c'è Sopra ci sono andato prima E' bagato 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 Devo trovare il pulsante che fa scendere sta cosa Che qua davanti Però vedi Mi dice che comunque già ci sono passato E' bagato 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 Ma come è possibile che queste palle di fuoco non gli fanno niente a questo? Ma come è possibile? E' bagato 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 Ma qua che continuano a far uscire sti cosi E basta Ma che cacchio? Lì sopra pure, lì, come si va? Non ho capito Ma non si è aperto niente A vedere se questo funziona No, di cari Però si è roba di gente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non ho mica capito Non ho mica capito Grazie a tutti 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 Continuo a non capire Non c'è nulla Grazie a tutti 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 Non ci sono Grazie a tutti 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 Due Grazie a tutti 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 No ma che Grazie a tutti 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 Se posso Ehm... 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 Mi sono tirato da solo Ehm... 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 Ah... Ehm... Porca... Ehm... 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 Porca... Nooo... Ehm... 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 Ehm...